Adesso penso che abbiamo un brano di Christoph Willibald Gluck. Allora dite ma questo qui sta poco bene perché prima ci ha detto che sono tutti musicisti italiani e adesso ci mette un musicista tedesco. Cosa c'entra con i musicisti italiani? C'entra l'ho messo apposta. Anzitutto perché Gluck fu il riformatore del melodramma. Secondo perché essendo tedesco voi vedete che l'opera che ha musicato è Orfeo ed Euridice. Cosa vuol dire? Che per tanti secoli la musica operistica in Francia, in Germania, dovunque voi andasse, era rappresentativa dell'Italia. L'Italia deve mantenere questo suo patrimonio che fa sì che è forse ancora l'unico motivo per cui all'estero si studia la lingua italiana. La danza degli spiriti beati. Che cos'è? Gli spiriti beati sono quegli spiriti distaccati dalle passioni. È bello anche che la musica che è la prima cosa che porta alla passione a volte abbia dei brani che sono distaccati dalle passioni. E questo è un esempio. E Gluck affida questa voce angelica al voce del flauto solista. La volta prossima preparo la danza dei demoni. Grazie. 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 Grazie.